Un weekend con il naso all'insù per moltissimi scolari delle scuole che sabato mattina hanno assistito presso la biosuperficie Dominio di Bagnoli, ai piedi dei Colli Eugani, a Bagnoli di sopra, in provincia di Padova, alla grande festa della protezione civile della bassa padovana. Oltre alle molteplici attività dei vari reparti della protezione civile, come i mezzi di soccorso e di primo intervento, ai ragazzini delle scuole è stata mostrata l'attività curata dagli addestratori dei cani da ricerca e soccorso in caso di calamità. La festa mattutina ha visto atterrare sulla pista l'aereo della Polizia di Stato, l'Observer 2 e la presenza di uno dei due elicotteri dei Vigili del Fuoco presenti a Venezia presso il reparto volo, parliamo di Drago 148. Durante la mattinata i vari volontari hanno descritto ai 160 ragazzi le funzionalità dei mezzi presenti e delle varie attrezzature, nonché le varie attività operative per poi svolgere una vera e propria esercitazione nella seconda parte della giornata. Come dicevamo è stata spettacolare la dimostrazione in volo di Drago 148, un magnifico elicottero AV139 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia, un esemplare impiegato in numerosissime operazioni di salvataggio e di soccorso, non solo ma grazie alla propria versatilità di impiego è stato spesso usato anche come trasporto d'organi. Vediamo. Noi della cronaca siamo soliti vedere questo elicottero in aria, situazioni anche a volte spiacevoli, a volte tragiche ma sempre pronto, sempre presente. Sì, noi facciamo base all'aeroporto di Tessera e abbiamo un equipaggio che generalmente è formato da due piloti, abbiamo almeno due aerosucorritori sempre a bordo e il tecnico di bordo che è quello che oltre a prestare manutenzione quando è in hangar l'elicottero fa anche la parte dell'operatore al vericello, quindi il vericello è come la manovra che avete visto prima. L'operazione devo dire che ha simulato un soccorso, un recupero? Sì, abbiamo simulato un soccorso, un recupero, cose che noi generalmente ci addestriamo sempre a farle e le facciamo anche operativamente negli interventi come è successo. Soprattutto in montagna vi vede? In montagna e anche al mare però, perché anche sulle navi, recupero sulle navi, sono stati fatti parecchi anche il ragazzo che è stato recuperato a largo dopo una notte in mare, quindi facciamo sia mare che montagna, copriamo il Veneto e Friuli. Sentite, ma questa potenza di fuoco, perché è una potenza di fuoco, non ha gli armamenti però voglio dire è un elicottero di soccorso, quanto consuma? Allora questo è un elicottero che diciamo che consuma abbastanza perché questo elicottero ha parecchi cavalli. La cosa che posso dire è che però è un elicottero molto tecnologico che ha dei sistemi anche di autopilota che sapendoli gestire, quindi bisogna conoscerlo, ti dà la possibilità anche di vericellare e di recuperare le persone in automatico. Cioè lui mantiene l'over in da solo e te lo riesci a gestire e recuperare. Diciamo che ha un'autonomia che è intorno alle tre ore, il peso dell'elicottero può arrivare fino a 7000 kg. Quante persone può trasportare? Questo può trasportare al massimo 17 persone. Sono poche, sono poche, è un bel pulma. È un bel pulma di soccorso, d'altronde è la funzione che ha. Senta, qual è la storia che l'ha colpita maggiormente facendo il suo lavoro poi di pilota? Ma gli interventi sono sempre particolari. Diciamo che da papà molte volte quando vai a recuperare e a salvare qualche bambino ti lascia sempre qualcosa in più che ti porti con te per parecchio tempo. Senta, lei è arrivato qui questa mattina, ha anche un po' giochichigato, diciamo un po'. Abbiamo fatto le manovre standard. Quella che avete visto, ad esempio, è stato un fly away che è quando si aprua il muso molto in avanti. Lì si simula di un'eventuale piantata motore dell'elicottero. Noi riusciamo con un solo, perché avendo due motori, con un solo motore riesci comunque a continuare il volo e all'involarti con un motore, con un single engine. E ha reso allegri i bambini. Certo, la vericellata fa sempre piacere anche perché sono qua per questo. Ci fa sempre, ci dà sempre della gioia vedere il futuro nostro che ci viene, che noi andiamo a trovare il nostro futuro. Infatti la grande curiosità dei bambini è proprio rivolta al mezzo e al fatto che, insomma, c'è l'elicottero che vedono sempre peraltro. Eh, indubbiamente. Infatti ci fa molto piacere anche farli avvicinarli, farglielo vedere, fargli vedere tutti questi pulsanti, queste cose. Poi hanno un'intelligenza, una curiosità che a volte ti lascia spiazzato. La protezione civile in qualche maniera vi aiuta anche nei soccorsi? Cosa ne pensate? Io sono dell'idea che la protezione civile è formata da tutti i corpi che possono partecipare e sono idonei per fare i soccorsi, per aiutare la cittadinanza. E sono dell'idea che più ce ne sono meglio è, perché se forse devo cercare mio figlio che ha bisogno di aiuto, voglio che ci siano tutti in campo per aiutarlo. L'elicottero è stato affiancato in mostra statica dalla Vulcan Air P68 Observer 2 del decimo reparto volo della Polizia d'Estato. Anche in questo caso i piloti, i volentieri, hanno risposto ad alcune nostre domande. Vediamo. Ispettore, insomma, lei è arrivato a questa grande Kermess Avio che c'è qui a Padova, qui praticamente in una giornata bellissima. Mi immagino che abbia volato molto bene. Sì, c'è un po' di foschia, però diciamo a quest'ora si va anche bene, non c'è nessuno per aria. Comunque questo è un campo volo dove è sempre piacevole venire, organizzo sempre belli eventi e anche lo stato della pista è sempre ottimale. E da dove arriva? Noi arriviamo dal reparto volo di Venezia, siamo stanziati a Tessera, verso l'aeroporto principale, facciamo servizio là. Che tipo di funzioni ha questo aereo? Questo aereo che è costruito a Napoli, a Casoria per l'esattezza, di marca Vulcan Air. È un Pava Noembre 68. Come dice il suo soprannome, diciamo Observer, è un aereo da ricognizione, da osservazione, quindi viene molto utilizzato per la ricerca sia in mare che in terra. Poi noi della polizia facciamo molta vigilanza stradale, assistiamo i nostri colleghi che seguono le gare ciclistiche, facciamo anche dei trasporti sanitari, sangue. Ha una grande utilità in ogni caso, è sempre attivo? Sì, siamo abbastanza versatili. Certo, poi per compiti più specifici abbiamo l'elicottero, logicamente, che è anche il mezzo più famoso della polizia, l'elicottero. Parliamo un attimino di lei, delle vostre attività. Quanto ci vuole per diventare un pilota di aereo in polizia? Diciamo che è un po' lunga, si entra in polizia, siamo tutti prima poliziotti, dopodiché con corso interno si accede a un corso che noi facciamo presso l'aeronautica, quindi andiamo a fare il corso che fanno anche i piloti dell'aeronautica, facciamo le prime 80 ore di volo a Latina per quello che riguarda l'aereo, dopo due mesi di teoria fatta a Pozzuoli dove c'è l'Accademia. Dopodiché proseguiamo nella nostra scuola di volo a pratica di mare e linea di massima 14 mesi di corso, tutti fatti tra Latina e Roma. Chiedo, il pilota di aereo può volare anche con l'elicottero o no? No, allora sono due brevetti separati, chi è pilota di elicottero non è un pilota di aereo, sono due carriere separate, due percorsi separati. La voglia e la passione del volo a questo punto si è coniugata con l'attività di polizia? Beh sì, diciamo che ci dà la possibilità anche di sfruttare questa passione per il volo e metterci a disposizione della comunità facendo dei servizi che pensiamo possano essere utili. Qual è l'aneddoto più incredibile che avete avuto con questo aereo? Diciamo di aneddoti, ce ne sono tanti, bello è stato un trasporto sanitario che ci hanno chiamato mattina, ancora notte, abbiamo fatto un belluno Genova in 50 minuti. Ecco è stato, è quello che mi viene prima in mente, ce ne sarebbero tanti altri. In collaborazione anche con l'aeronautica abbiamo fatto una bella esercitazione di ricerca, siamo stati molto performanti, nonostante abbiamo l'alla fissa che è notoriamente meno indicata per cercare fare le attività di ricerca in montagna, in realtà siamo stati molto efficienti, molto efficaci. È pericoloso comunque pilotare un aereo? Beh diciamo che comunque è insito nel fatto del volo essere pericoloso perché comunque non siamo abituati alle tre dimensioni, chiaramente abbiamo un addestramento tale e una formazione che ci porta a limitare quelli che possono essere i pericoli determinati dal volo. Grande soddisfazione per i responsabili dell'aviosuperficie di Bagnoli per questa iniziativa voluta fortemente che ha conclamato la riuscita dell'evento. Vediamo. Siamo con il responsabile dell'aviosuperficie di Bagnoli, perché questa giornata e perché questa apertura dell'aviosuperficie? Questa giornata è stata voluta fortemente da tante persone, in primis dalla gestione dell'aviosuperficie perché siamo convinti delle potenzialità che una struttura di questo tipo può rivestire per il territorio. Perché? Perché una bellissima pista di 1200 metri in aperta campagna senza ostacoli e con delle strutture di un certo livello può in caso di calamità naturali o di esercitazioni rivestire un ruolo chiave per i mezzi aerei che possono essere elicotteri o velivoli da trasporto che possono trasportare appunto merci o strutture. Oggi abbiamo visto il meglio che la protezione civile a livello provinciale e regionale può offrire ai propri cittadini. Speriamo che questo evento abbia cadenza annuale. Ho già visto forte entusiasmo, per cui sono fiducioso che sia la prima di una lunga serie. Hanno partecipato anche numerose autorità politiche locali, provinciali e regionali, tra cui anche il sindaco di Bagnoli, ARRE, la consigliera regionale Elisa Venturini, i quali ci hanno risposto così. Vediamo. Dove c'è protezione civile chissà come mai c'è sempre Elisa Venturini? Beh è sempre un piacere, poi i volontari mi invitano sempre perché vogliono far vedere quanto si impegnano e quanto sono bravi, quindi vengo molto volentieri. Poi questa mattina ho visto anche le scolaresche e questo è un bellissimo segnale. Dopo due anni di ferma, che non c'erano contati, non c'era possibilità di rivedersi, adesso anche essere sul campo con i ragazzi con la protezione civile è veramente una bella giornata. Una giornata splendida che riporta però a pensare o forse anche a ripensare il ruolo della protezione civile proprio nelle scuole. È fondamentale e questo è un passaggio molto chiaro nella legge di protezione civile che abbiamo approvato in consiglio regionale, dove si mette in evidenza proprio la necessità di infondere la cultura della protezione civile a partire dalle scuole e dai ragazzi. Attraverso dei corsi di formazione, attraverso esercitazioni, attraverso dei momenti formativi come questo che servono veramente per diffondere nella popolazione la necessità di avere sempre un occhio di riguardo verso la sicurezza, verso la protezione civile e quindi verso la tutela del territorio. Ecco, una regione, quella del Veneto, il consiglio regionale che continua a lavorare. È una regione che in questi anni, io direi soprattutto dopo l'alluvione del 2010, ha preso sempre più coscienza delle fragilità del nostro territorio. A partire da quella data infatti sono stati avviati tutta una serie di interventi, basti pensare ai bacini di laminazione che sono stati realizzati nel Vicentino, Caldonio, Trissino, che in questi ultimi anni hanno permesso di evitare degli eventi calamitosi importanti, perché nonostante la grande quantità di acqua per le precipitazioni caduta, si è riusciti a contenere, a tenere quindi a bada i vari fenomeni, per cui possiamo dire che veramente è stato fatto. C'è ancora da fare, però siamo sulla buona strada. Siamo certi che sia la prima di una lunga serie di eventi dedicati alla protezione civile e ai vari enti preposti ad interventi di sicurezza sul territorio. L'aviosuperficie dominio di Bagnoli a Bagnoli di sopra, in provincia di Padova, si dimostra ancora una volta una struttura valida ed efficiente, utilizzabile in vari ambiti e va sicuramente dato merito per l'impegno profuso in questa giornata dedicata alle attività destructive della protezione civile, anche le altre realtà locali che operano presso la struttura come Ali di Bagnoli, Card Tech e Historical Eyecraft Group. L'appuntamento con l'aviosuperficie sarà per spiccare dalla pista un nuovo salto volando in alto nel cielo.